Moda, cibo, turismo e architettura sono i quattro argomenti in cui sarà declinata la grande sfida dell'economia circolare attraverso musica, teatro e incontri. È il Festival Reco che da domani al 24 marzo colorirà Prato, città che ha una lunga tradizione di riuso in campo tessile e molti primati ecosostenibili in fatto di depurazione delle acque industriali e di trasformazione del patrimonio edilizio. L'idea della quattro giorni di eventi promossa da Comune di Prato, Regione Toscana e Toscana Promozione nasce proprio dalla volontà di valorizzare le buone pratiche territoriali. Da tanto tempo a Prato facciamo le cose fatte bene ma non le raccontiamo a nessuno. È arrivato il momento di dirlo al mondo, noi siamo veramente avanti nell'economia circolare. L'inaugurazione si terrà domani alle 18.30 al Polo Campolmi con un aperitivo circolare. La prima giornata del Festival partirà alle 10 nella sede del Consorzio Santa Trinita con la presentazione della performance Do You Care con Katia Giuliani e Paolo Mereu prodotta dal Metastasio. Due performer vivranno lo spazio, chiederanno alla cittadinanza di portargli da mangiare, da vestire, da dormire e generi di conforto. Quindi chiediamo veramente a tutte le persone sensibilizzate che veramente deve essere fatto tutto secondo i principi della sostenibilità dell'economia circolare. Al Metastasio abbiamo due grandi appuntamenti, quello di venerdì sera con Elio e con Proseda che tra l'altro è un pianista pratese e sabato abbiamo una bella serata con Mac Cox che parlerà di politici riciclati, avrà molto da dire, con il Lercio che dal virtuale arriveranno al reale e con Don Pasta che cucinerà mentre parlerà di cibo a chilometro zero. Tra cinema, cucina povera che diventa gourmet e i gruppi mascherati del Carnevale di Viareggio si arriverà l'evento conclusivo di domenica sera alla Manteco con la performance di King Caleri. Domenica mattina sarà possibile vedere con i propri occhi tre aziende del Pratese altamente sostenibili.